Stamattina, prima della conclusione degli esercizi, ha ringraziato il predicatore con parole di particolare apprezzamento che possiamo ascoltare. Don Angelo, io vorrei ringraziarla in nome proprio e di tutti noi per il suo aiuto in questi giorni, il suo accompagnamento, il suo ascolto. Noi adesso torniamo a casa con un buon seme, un seme della parola di Dio, è un buon seme quello. Il Signore inviarà la pioggia e quel seme crescerà e darà il frutto. Ringraziamo il Signore per il seme e per la pioggia che ci invierà, ma anche vogliamo ringraziare il seminatore, perché lei è stato il seminatore e sa farlo. Sa farlo, perché lei va, getta giù di qua, getta di là, senza accorgersene o facendo finta di non accorgersene. Ma segna, va al centro, va al segno. Grazie per quello. Le chiedo di continuare a pregare per questo sindacato di credenti. Tutti siamo peccatori, ma tutti abbiamo la voglia di seguire Gesù più da vicino, senza perdere la speranza nella promessa e anche senza perdere il senso dell'umorismo e dalle volte salutarli da lontano. Grazie Padre. Grazie. Grazie.